Questo video riguarda i migliori 3 tapiru lan. Il vincitore della qualità è l'esimmal tapiru lan. Tapiru lan elettrico inclinabile doppi altoparlanti audio surround integrati, supporto della connessione bluetooth, goditi la sensazione rilassata offerta da musica, commedie, film, ecc. Mentre ti alleni, 12 modalità di fitness integrate, 1 12,8 km all'ora regolazione della velocità. Tapiru lan professionale pieghevole adotta una piegatura libera di 90. Sistema di rallentamento a due livelli, copre un'area minore 1 metro quadrato, dimensioni aperte 140 x 56 x 121 cm, peso netto 41 kg. Tapiru lan pieghevole magnetico con cintura da corsa ammortizzante a 7 strati con motivo a rombi, con caratteristiche di elevata stabilità ed elevata resilienza, antiscivolo, resistente all'usura, confortevole e durevole, protezione del piede dinamica, silenziosa e silenziosa. Dotati di motore da 2,5 HP ad alta precisione silenzioso a risparmio energetico, più potente, rumore, consumo energetico, con schermo LED. Scegli il nostro mini runner Tapiru lan pieghevole e otterrai il telaio principale. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Flying Tech Tapiru Lan. Il Tapiru Lan pieghevole per la casa dispone di 12 programmi preimpostati che offrono modalità multiallenamento. Con un motore potente e ultra silenzioso da 2,25 CV vapore, questo Tapiru Lan ti consente di camminare o correre senza disturbare gli altri, rendendolo ideale per l'uso in casa e in ufficio. La cintura da corsa con trama antiscivolo a 5 strati presenta un'ampia area di corsa, una pedana di assorbimento degli urti aggiornata che fornisce un cuscino efficace e sicuro per le ginocchia e i muscoli per un superiore esperienza di corsa. Il telecomando è comodo per regolare la velocità del Tapiru Lan o altre funzioni, l'app intelligente può anche controllarlo tramite Bluetooth. Il design compatto e pieghevole e le ruote di trasporto integrate facilitano lo spostamento e la conservazione di questo Tapiru Lan sotto la scrivania per risparmiare spazio. Il vincitore del premio è l'Anchir Tapiru Lan. La scrivania di grandi dimensioni è la caratteristica principale del nostro Tapiru Lan. La dimensione è di 23 x 61 cm, sufficiente per posizionare un laptop, un iPad o altro, per potersi intrattenere guardando un film o per lavorare mentre ci si allena. Il motore da 2,25 HP permette l'utizzo di 12 programmi preimpostati e tre modalità di countdown. La velocità può variare da 0,8 a 12 km all'ora. Questo Tapiru Lan pieghevole è dotato di un nastro da corsa ruvido antiscivolo, che attutisce l'impatto e protegge le ginocchia. L'ampia area per la corsa da 102 x 42 cm offre un comfort eccezionale e la massima sicurezza. Il design pieghevole del Tapiru Lan è indicato per l'utilizzo domestico. Quando non è in uso, può essere ripiegato per risparmiare spazio. Spedizione veloce da un magazzino UE, lo riceverai entro 3 a 5 giorni. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.